Antonio Del Vecchio, presidente del Silvi, domenica ci sarà l'appuntamento con i play-off, sfida secca, difficile in trasferta contro il Giuranova annunziata, però avete importanti ambizioni. Sì, è normale, noi adesso arrivati a questo punto della stagione, credo che poi le differenze dei punti della classifica si azzerano, quindi adesso conta soprattutto metterci volontà, forza, impegno, sacrificio e l'obiettivo di raggiungere la finale del Gironi in questo momento e quindi superare questa semifinale. Per noi è un po' difficile perché avremo solo un risultato che è quello di vincere, invece mentre Giuranova avrà due risultati su tre e poi giocherà in casa la semifinale. Nelle ultime settimane due eventi, intanto la presidenza passata proprio da Antonio Del Vecchio, poi la riapertura delle tribune del campo Ughetto di Febo, ecco vogliamo spiegare un po' questi passaggi, intanto come mai questa presidenza, quali sono gli obiettivi? Sicuramente come mai questa presidenza perché io un po' già qualche anno fa ero stato già nel mondo delle tantissime con un'altra squadra, poi l'avevo lasciato e adesso sono rientrato. A me piace stare nel calcio, a me piace stare con i ragazzi. Mi rendo conto che è un impegno, è una carica molto importante e molto difficile. Spero di portarla avanti con umiltà e con impegno sempre nell'interesse di questa comunità sul Varola, come ho avuto modo di dire in altri ambienti, che dovrà e spero di raggiungere degli obiettivi e delle categorie un po' più alti rispetto all'attuale prima categoria. Perché Silvi deve raggiungere almeno, secondo me, la promozione. Poi da lì in poi, strutturandoci e creando delle basi solide come sono state gettate quest'anno, io spero di poter raggiungere un obiettivo importante, soprattutto perché quest'anno siamo ripartiti con il settore giovanile. Abbiamo fatto primi in tutte le categorie, tranne la Unionist Elite, che siamo arrivati secondi, e per qualche punto non siamo andati a fare la finale con l'Angolana. Quindi colgo l'occasione per ringraziare soprattutto tutto lo staff tecnico della prima squadra e del settore giovanile che hanno realizzato questi importanti traguardi quest'anno. È importante poi soprattutto giocare in categoria superiore con la riapertura dello stadio, perché con lo stadio che è stato messo a punto, ultimato, con le tribune che adesso sono state riaperte, con gli spogliatoi che sono stati completati e riaperti sotto una delle due tribune, e avere un campo del genere e giocare in queste categorie è veramente un delitto, dico io spesso. Quindi mi auguro che le due cose adesso camminano in categorie superiori.